L'ipotesi contestata dalla procura e di disastro ambientale causato dalle presunte negligenze di 9 dei 21 imputati finiti a processo per la gestione della discarica comunale di Trani, chiusa dal settembre del 2014 a seguito della fuoriuscita di migliaia di litri di percolato. Il PM Francesco Tosto ha formulato le sue richieste di condanna al termine di 4 ore di requisitoria, invocata alla pena di un anno e 6 mesi per i due ex sindaci Giuseppe Tarantini e Luigi Riservato, tre anni per il direttore tecnico e progettista della discarica Michele Zecchillo, due anni e mezzo per l'ex amministratore unico di Amio Antonello Ruggiero e due anni per l'ex presidente dell'azienda Francesco Sotero, un anno a testa per i dirigenti regionali Antonello Antonicelli, Giuseppe Tedeschi, Caterina Di Bitonto e Giuseppe Maestri. Chiesta anche una sanzione pecuniaria di 200 mila euro a carico di Amio S.P.A. I reati contestati a vario titolo sono di disastro ambientale, omissione d'atti d'ufficio, gestione continuata di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione AIA ed emissioni in atmosfera non autorizzate. Per gli altri imputati finiti alla sbarra, tra cui gli ex assessori all'ambiente, Pina Chiarello e Giuseppe De Simone, il PM ha chiesto la soluzione. Secondo la procura, la fuoriuscita di percolato e la sua dispersione nella falda sarebbe stata provocata dall'enorme pressione esercitata dal biogas prodotto dall'impianto sulle pariti della discarica. Il prossimo 19 ottobre nuova udienza per le richieste delle parti civili.